Ma ciao amici, bentornati sul vlog di Camera Fridge Oggi una puntata d'eccezione Ho qui degli ospiti Chi è quello dietro, alle mie spalle? Beh, poi lo scopriremo insieme Essendo un canale libero Oggi darò lo spazio di qualche secondo A delle persone per dire liberamente quello che vogliono, ok? Il primo che dirà qualcosa in Camera Fridge sarà Lorenzo Che ormai tutti conoscete, vero Lorenzo? Ciao Lorenzo Ciao Lorenzo Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo, vengo da Milano Ho 33 anni, sono gay e sono a STEM Ho detto due bugie, indovinate un po' Crediamoci a tutto L'unica cosa che ha detto di vero è che è gay Ciao Il secondo ospite è l'amica Saso Grazie per questa ospitata Vabbè, io volevo fare gli auguri a tutti per Natale che ormai è passato Capodanno Capodanno, sì, ci portiamo avanti, noi siamo sempre avanti Avantissimi, perfetto Ci vedono in tutto il mondo Vabbè, un piccolo appello, visto che è un canale libero A tutti gli omofobi Guardate che è una cosa seria quindi Volevo soltanto sottolineare il fatto che l'omofobia è una brutta forma di razzismo E che naturalmente c'è tanta gente che ci soffre E noi non vogliamo averla, soprattutto in Italia, perché noi siamo italiani Non vogliamo andare all'estero per poter vivere tranquilli, soprattutto per sposarci Visto che io sarò costretto a non potermi sposare in Italia ma a dover andare all'estero E in tutto questo saluto la nostra amica Viviana Viviana Bruno, ciao Che fa davanti una battaglia che veramente dimostra di avere le palle Quello che tantissima gente soprattutto gli omofobi non hanno Ecco E ricordate che l'amore non ha sesso E visto che stai parlando di matrimonio Vorrei dire se c'è sempre qualcuno che magari mi vuole prendere Perché ancora non si vede un tifero Ok Bene, va te Grazie Ciao ragazzi Ciao Taso Il prossimo ospite in camera fridge Eccoci, arrivo L'incantevole crimi Guarda il culo, dove sono l'incantevole crimi? Beh, il ciuffo, un po' l'albero azzurro Dai Va bene Allora soltanto un augurio di buon anno, una buona pepefana E ragazzi, trovate di più Bene Semplice, conciso e speciale Bravo, lo auguro anche per me Esatto Ok, grazie Figurati Bene, adesso il prossimo ospite Una donna in camera fridge Tiziana Ciao a tutti Ciao a tutti, auguri a tutti Viva il sud, viva la Sicilia E viva tutti i miei amici Tiziana, hai visto quanto sei bassa? Non è vero Ha tolto i tacchi Infatti Sono alta solo 1,75 E lui che è alto Bene Ciao a tutti Bene, un saluto a Tiziana E adesso l'ultimo ospite in camera fridge E con voi Sonico Ciao a tutti Ecco, allora lui è quello che ha scritto le sigle di camera fridge Purtroppo sì Perché invece ha avuto un successone Ha avuto un successone Certo E tra l'altro amici è l'unico etero Cioè Non diciamola a nessuno Se mi spiego Bene Ma io faccio solo un saluto Come Quindi Un saluto Come ha fatto Mamma Mamma Saluto a tutto il mondo A tutto il mondo Perché noi saremo internazionali Un saluto planetario A tutto il mondo Ok Bene Ringraziamo il nostro amico Sonico Francesco Letteriello Un bacio a camera fridge Bene Allora Un saluto Di gruppo Tutti insieme Agli amici di camera fridge O telefrigo Telefrigo Perché se non vi iscrivetevi Perché se non vi iscrivetevi A camera fridge Non drommate tutto l'anno Bene Ciao Bravo Ciao Ciao